Circa 3 milioni e mezzo di italiani sono a letto con l'influenza e l'Abruzzo al terzo posto tra le regioni in cui è stata superata la soglia di massima intensità e quanto emerge dall'ultimo rapporto della sorveglianza InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità che evidenzia che i più colpiti sono i bambini e in particolare gli under 5. È consigliato l'uso delle mascherine a tutti i fragili, disinfettarsi spesso le mani e soprattutto in caso di sintomi contattare il medico di medicina generale. Lo spiega il professore Francesco Cipollone, direttore del Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara e direttore del Dipartimento Medico e della Clinica Medica dell'Ospedale di Chieti. Boom di ricoveri anche in Abruzzo per l'influenza stagionale. L'australiana è molto più virulenta rispetto agli anni precedenti. Febbre alta per tre o quattro giorni, insensibile ai comuni anti-infiammatori, dolori articolari, congestione delle alte e medie vie respiratorie, raffreddore e mal di gola, talvolta disturbi gastroestinali come vomito e diarrea. Sono i sintomi prevalenti dell'influenza stagionale. Professore Cipollone, qual è la situazione nel suo dipartimento? Sì, la situazione nel nostro dipartimento è quella di una occupazione pressoché completa dei posti letto. Noi abbiamo nel Policlinico di Chieti tre reparti di medicina, quindi la clinica medica con i suoi 58 letti, medicina 2 con 24 e la clinica geriatrica con 23 e sono tutti occupati. C'è un turnover, diciamo, sui letti, nel senso che quotidianamente questi tre reparti fanno delle dimissioni di pazienti che vengono prontamente rioccupati dai pazienti che arrivano con sindrome influenzale al pronto soccorso. Perché l'influenza quest'anno è così virulenta e possiamo dire se è preoccupante? Sì, quest'anno siamo di fronte a un'influenza sicuramente più virulenta rispetto a quella che eravamo abituati negli ultimi anni a fronteggiare. Nasce, diciamo, come conseguenza della gestione del Covid. Noi durante il Covid abbiamo avuto delle misure di restrizione dei contatti tra le persone estremi, quindi la mascherina è il primo esempio classico, poi lavarsi le mani, evitare gli assembramenti. Questo ha fatto sì che per un paio di anni noi non siamo stati di fatto esposti al virus influenzale, per due anni non abbiamo avuto di fatto l'influenza. Questo è stato positivo, però ci fa pagare un pegno perché normalmente l'influenza ogni anno è circa un 20% nuova dal punto di vista immunitario e un 80% è la vecchia influenza su cui il nostro sistema immunitario è già preparato. Adesso, avendo avuto questo buco di immunizzazione verso l'influenza di due anni, stiamo fronteggiando questa australiana che è quasi totalmente nuova per il nostro sistema immunitario e quindi c'è in piccolo quello che abbiamo passato, l'umanità ha passato con la spagnola o l'asiatica, che è una situazione ancora più gravi, però c'è questa carenza di un background immunitario che gli altri anni avevamo. Si manifesta con un quadro che è indistinguibile dal Covid, quindi il tampone fa da spartiacque e quindi un quadro febbrile, anche forse più alto del Covid, ci sono quasi costanti, riscontri di temperature 39, anche 40 gradi per 2-3 giorni, con dolori articolari, quindi artralgie, emialgie, spossatezza estrema e rinorrea, quindi il classico raffreddore. Non bisogna regarsi al pronto soccorso che sta già in una fase di sovraccarico, ma bisogna contattare il collega di medicina generale che ha tutte le competenze per fare la prima valutazione, che vuol dire valutare se è una influenza a rischio di complicanze o un'influenza standard, nel qual caso può essere gestita a domicilio senza terapia antibiotica assolutamente che è inutile e favorisce le resistenze batteriche, con terapia di supporto dei sintomi, quindi antipiretici come il paracetamolo o antinfiammatori come l'ibuprofena, ad esempio. Per quanto concerne la vaccinazione anti-influenzale, si è ancora in tempo? Quest'anno l'influenza, oltre a una particolare gravità, ha anche anticipato i tempi. Di solito noi l'aspettavamo dopo le festività natalizie nella sua crescita, adesso ha anticipato di quasi un mese il suo impatto epidemico. Detto questo, c'è ancora un margine ridotto per fare la vaccinazione, perché la vaccinazione è uno stimolo immunitario, quindi necessita di quei 10-15 giorni per andare a regime come copertura anticorpale. Quindi se ancora c'è tempo, però proprio in questi giorni si può eventualmente approfittare e magari fare, soprattutto nelle persone anziane o fragili, la somministrazione combinata della vaccinazione Covid è più influenzale. Sappiamo che la mascherina è uno strumento formidabile di protezione se gestita correttamente, quindi non toccata sull'esterno, ruotata, cambiata, il gel disinfettante per le mani, le superfici, quello che a volte si fa poco memoria, è le superfici che possono mantenere il virus, ad esempio il virus del Covid, fino a 7 giorni su una superficie porosa. Anche il virus influenzale per varie ore può rimanere, quindi maniglie comuni, di luoghi pubblici o altri oggetti comuni, bisogna fare sempre molta attenzione perché possa essere potenzialmente il vettore della trasmissione indiretta del virus e magari uno non ci pensa, sta protetto con la mascherina, poi prende una saliera in un ristorante e si infetta. La ventilazione è una delle misure più importanti di prevenzione, non per niente nel servizio militare c'era un'ora di aria obbligatoria nelle camerate perché l'ossigeno è la ventilazione, abbassa la carica virale e è battericida per alcuni tipi di microbi, quindi ventilazione degli ambienti comuni, evitare gli assembramenti, queste sono le regole di massima, senza voler rovinare il Natale a nessuno, però sono le regole di buon comportamento che dovremmo tutti applicare. Vitamina C? Ecco, sui integratori diciamo che c'è un business importante ovviamente, ma non è consigliabile, assolutamente le carenze di vitamine appartengono al passato, appartengono al periodo bellico, non ci sono più casi di ipovitaminosi nel mondo occidentale, da tanti anni c'è il rischio di tossicità di alcune vitamine, quindi nel soggetto che ha una normale alimentazione e non ha malattie con carenze di assorbimento ad esempio di alcune vitamine non è richiesta nessuna supplementazione vitaminica, anche perché la quantità di vitamina C che servirebbe per abbassare la vulnerabilità al velo è altissima, ci vorrebbero 3-4 kg di agrumi ogni giorno e non basterebbero neanche, quindi diciamo che è un business ma non ha una base scientifica alla supplementazione di vitamina C.